Neppure gli uffici del comune sono sfuggiti alle attenzioni dell'Adria Montevarchi, dove nelle ultime settimane si è registrata una recrudescenza di furti in appartamento e in esercizi commerciali e dove cresce così la preoccupazione tra i residenti. L'ultimo raid all'Urban Center del municipio è in via de Mille alcune notti fa. Qui i malviventi hanno forzato un infisso, sono entrati nel locale delle anagrafe ed hanno setacciato armadietti e scrivanie alla ricerca di denaro raccimolando un magro bottino prima di darsi alla fuga. Pochi giorni prima un analogo episodio allo spazio Politeama. In questo caso, dopo aver scassinato di notte un fortone di servizio, i ladri erano riusciti a portare via materiale dal bar e un computer per un valore complessivo di diverse migliaia di euro. Il sindaco Silvia Chiasai Martini, alla luce degli ultimi episodi, aveva chiesto un confronto con il questore di Arezzo, Maria Luisa Di Lorenzo, ricevendo massima collaborazione. A breve, a Montevarchi, l'arrivo di una task force dal capoluogo di Regione sarà impegnata per passare al setaccio l'abitato finito più volte al centro di simili operazioni contro microcriminalità e spaccio di sostanze stupefacenti.